Ciao! Non so se ti è mai capitato di pensare che un giorno sarai una persona migliore. Sarai una persona migliore che si nutrerà bene, nutrirà bene, sarai in forma, sarai molto fit, sarai capace di realizzare tutti i tuoi sogni, sarai perseverante, sarai pieno di autodisciplina, sarai capace di stare sempre in uno stato positivo, farai le cose proprio come hai sempre voluto. E realizzerai una vita magica e tutto andrà bene, ma un giorno, non adesso. Purtroppo devo darti una delusione, questo non accadrà. Perché non accadrà? Perché tu non ti potrai trasformare in un supereroe nel tuo futuro, se quel futuro continui a rimandarlo. Tu puoi solo trasformarti in un supereroe adesso, proprio ora e in questo momento, facendo un passo ogni giorno, facendo ogni giorno qualcosa per migliorarti, per realizzare i tuoi sogni, perché questo non si realizzerà automaticamente all'improvviso. Ricordati che sei tu il creatore della tua vita. La tua vita non si verifica come un fatto miracoloso e basta, ma sei tu attraverso i tuoi pensieri, attraverso le tue scelte, attraverso le tue azioni, che crei la vita che va in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi, non sperare di essere una persona diversa nel tuo futuro, una specie di supereroe, ma diventalo giorno per giorno. Solo in questo modo potrai creare veramente la vita che ti appartiene e quella che hai nei tuoi sogni. Quindi, se non ti sei ancora iscritto al gruppo Facebook Divine Connection, fallo ora, sul gruppo Facebook Divine Connection troverai tutta una serie di strumenti utili, troverai il supporto di tutto il gruppo mio e del team Divine Connection. Quindi, se vuoi una mano per diventare subito quel supereroe, allora iscriviti al gruppo Divine Connection. A presto, ciao!